Bene, questo mese vediamo come costruire un pannello di controllo per poter formattare le stampe, le anteprime di stampe dei vari fogli di lavoro di una cartella. Allora qui ho scelto una cartella di lavoro in complessa con diversi fogli perché ognuno ha delle caratteristiche di impaginazione differenti, cioè alcuni vengono meglio in orizzontale, altri in verticale per intenderci, ed è spese di attività di Natale 2013. Ma il pannello che vedremo si può applicare a qualunque cartella di lavoro. Vediamo passo passo prima di tutto come importare i file che sono nel file zip per applicare il pannello a qualunque cartella di lavoro. Prima di tutto andiamo con l'altf11 nell'editor WBA e poi inseriamo, qui c'è già un modulo 1 ma non importa, quando importeremo il modulo 1 basso esterno verrà rinominato il modulo 2, quindi non ha nessuna importanza. Andiamo su file, nell'editor WBA, importa file, allora prima di tutto importiamo lo user form che è il pannello vero e proprio, eccolo qua, questo è il pannello di controllo di cui ci occuperemo in questo numero. Poi per poterlo far funzionare bisogna anche importare il modulo 1 basso che diventa modulo 2, ci sono le routine che servono a questo progetto, qui c'è già un altro modulo 1 con altre routine ma non ha importanza. Un progetto di Excel come qualunque altro progetto in Office può avere più moduli WBA, vi ricordo. Poi bisogna fare un'altra modifica, in corrispondenza del progetto WBA Project relativo alla vostra cartella corrente, aprite la sottocartellina gialla Microsoft Excel oggetti e poi localizzate this workbook o questo foglio di lavoro. Ok, sarà vuoto il modulo, clicchiamo sulla sinistra nel menu tendina workbook, in corrispondenza della routine evento workbook open incolliamo queste istruzioni. Ok, io qui mi sono preparato, sono quattro comandi, il primo è la disabilità, i tasti funzione, e gli altri tre associano al primo 2, al tasto escape e l'ultimo al tasto f2, altrettante macro, che consentono in pratica di riattivare, cioè di visualizzare il pannello in qualunque posizione del foglio di lavoro. In aggiunta dobbiamo, ecco già che ci siamo, andare sulla proprietà anche workbook sheet activate, se questo è necessario, se vi spiego fa un attimo perché, quindi su shift activate, eccolo qua, la routine è quella giusta, sì, bisogna incollare queste istruzioni per far sì che quando l'utente, come vedremo c'è un controllo list box nel pannello, cambia il focus, cioè cambia il foglio di lavoro, i pallini, cioè le opzioni relative all'orientamento verticale o orizzontale, insomma, si adeguino di conseguenza, e quindi sono necessarie queste istruzioni. Ora, poi ho aggiunto anche un pulsante di comando, potete fare anche voi, ho aggiunto qui, vedete, nel primo foglio si chiama menu, ma si può inserire da qualunque altra parte, assegniamo la macro show form, che è quella che visualizza il nostro pannello. Ok, siamo pronti, salviamo, per sicurezza, dovrebbe essere già a posto, chiudiamo e riapriamo perché così siamo sicuri che si attiva la macro per gestione dei file, cioè dei tasti funzioni. Ok, vediamo l'F2 se funziona, esatto, funziona. Stampe, ok, quindi, vedete, questo è il nostro pannello, allora ci consente, vedete, di navigare agevolmente cliccando sul foglio, questi, gli elementi del controllo casella di repilogo, o list box, che sta in alto a sinistra, visualizza solo i fogli di lavoro che contengono celle non vuote, quindi se avete un foglio vuoto non viene caricato, quindi il controllo. E vedete che ogni volta che io passo da un foglio all'altro, verticale e orizzontale cambiano, per esempio, vedete, il menu è impostato su orizzontale, queste sono le impostazioni dell'oggetto page setup, o metodo page setup, anzi no, è un oggetto perché ha una serie di proprietà poi, diciamo, sottodividere, del foglio corrente, c'è una variabile sh as worksheet, che viene impostata ogni volta che si cambia il foglio di lavoro qui nel controllino, oppure se si seleziona un intervallo, l'applicazione è in grado di ricavare, da secondo l'intervallo che si è selezionato, come vedremo tra poco, utilizzeremo un controllo, un'alternativa al controllo ref edit, perché qui non funzionava, comunque voi potete utilizzare anche ref edit, fra poco vi mostro come funziona, anzi, lo faccio subito vedere, sono dimenticato di aggiungere un altro form, che appunto è quello che consente di creare il controllo alternativo, allora niente di male, andiamo a importare l'altro file, che è, sulla cartella, si chiama F-alternative ref edit form, ok, praticamente è un'altra funzione di dialogo, allora in questo modo salviamo, torniamo in esecuzione, ok, ecco, se io torno al pannello, copriamo in questo caso F2, ok, voglio selezionare un intervallo, vedete, ecco, compare, vedete questa casellina di testo, in realtà, vedete, ha delle proprietà tali che lo fanno corrispondere al controllo ref edit, e questo consente, vedete, di selezionare direttamente qualunque intervallo, vedete, selezionare un intervallo qualunque, meno evidenzia, e vedete, qui viene fuori anche il nome del foglio, calendar, quindi il foglio corrente automaticamente si posiziona sul calendar, e quindi io vedo automaticamente le altre impostazioni che rispecchiano l'ultima selezione, l'ultimo foglio selezionato, ok, vediamo allora adesso come funzionerebbe il controllo ref edit per quelli che hanno una sola versione di Excel, adesso io ne avevo due, e quindi questo è il motivo per cui non ho potuto utilizzarlo, diciamo meglio, lo vedo nel, andiamo nel Visual Basic, lo vedo nella casellina degli strumenti, se io abilito la casellina degli strumenti, scusate, gli strumenti sono visibili al momento perché devo uscire da qualche form, dovrebbe essere, ok, no, dovrebbe essere, ah sì, ok, sì, mi devo posizionare sul user form, ecco, questa è la casellina degli strumenti, ecco, quando la casellina degli strumenti è visibile, adesso accorciamo qui la tenestra dei strumenti progetti, allora viene abilitata una voce, controlli aggiuntivi sul menu strumenti dell'editor VBA, e allora bisogna andare a cercare, vedete, questo controllino che si chiama ref edit ctrl, questo per intenderci è questo qui, vedete, ma io vedete qui adesso ho questo problema che quando tento di portarlo nel coso, nel user form, da element.fam, è per questo che ho dovuto ricorrere alla soluzione alternativa, allora se non avete anche voi quel problema lì, utilizzate questo secondo user form e le macro che sono inserite dietro, no? Allora, questo consente di fare quello che abbiamo visto prima, il suo è di, praticamente, selezionare un intervallo anche quando abbiamo il pannello in modalità modale, cioè quindi non c'è bisogno di entrare e uscire dal pannello, lui lo fa automaticamente, quindi è molto utile. Quindi superiamo per esempio, non so, adesso apriamo il pannello, ci posizioniamo, non so, ecco, su dinner plan, facciamo selezione intervallo, vedete, dinner plan P30, faccio clic su questo pulsantino a destra, e vedete posso, adesso lascio il focus da questa casellina e vado direttamente, vedete posso cliccare, addirittura quello che posso cambiare, anche foglio, se molto interessante, e per esempio selezionare una zona, vedete, determinata, un intervallo qualunque di celle, e vedete che il controllino mi rispecchia automaticamente quello che io ho fatto con il mouse, mi fa vedere dinner plan E10 L21. Quando clicco su ok di nuovo, mi torna lì, ok, clicco ok, vedete questa volta nella casellina qui lì in intervallo, mi viene fuori l'intervallo con il nome del foglio, viene selezionato il nome del foglio di prima, proviamo con un altro foglio, se io adesso seleziono un foglio differente al dinner plan, per esempio, non so, recipe in red, questa parte qua, quando torno indietro, ecco, vedete, adesso sono su recipe in red, vabbè, voglio selezionare il mio plan, perché qui, vabbè, controllo, comunque è andato sull'ultimo selezionato, ok, allora, questo controllo, RFE di te, è lo stesso che utilizzate quando, non so, per esempio, inserite un grafico, e vi chiede di andare a definire gli intervalli dati per gli assi, per i dati del grafico, eccetera, oppure nella formatazione condizionale, oppure nelle formule, quando inseriamo una formula, ricordate, non so, per esempio, cerca l'articale, ecco, questo, vedi, questo controllino qui è un controllore fedi, quindi dice argomenti e funzioni, io vado a selezionare i vari intervalli, ecco, funzioni in modo analogo, quindi è molto utile poter disporre di questo tipo di controllo in un user form VBA. Ok, vediamo le altre caratteristiche, allora, torniamo al menu, ecco, se io adesso clicco qua, allora, questa è in orizzontale, posso cambiare, naturalmente, vedete, cambiano le aree di stampa, automaticamente, ci sono queste due caselle di opzioni, la prima è visualizzante prima interruzione di pagina, mi consente di vedere, vedete, in contorno blu scuro, le aree di stampa, e posso anche modificarle manualmente, faccio nascondi, in questo caso, mi dice premier per tornare all'user form, è necessario, perché è in modalità modale, no, altrimenti non mi consente di andare direttamente nel foglio, invece, ora ci posso andare, vedete, posso agganciare i bordi, e cambiare, vedete, posso accorciare, oppure estendere le zone di stampa, e anche in verticale, vedete, vedete, la pagina 2 è sparita, adesso diventa tutto pagina 1, ovviamente, questo comporta che lo zoom, cioè la percentuale di compressione della pagina, cambia, chiaramente, in questo modo, io posso definire la mia area di stampa, apriamo ESC, faccio l'anteprima, vedete, e mi ritrovo esattamente quello che avevo definito nell'area di stampa, ok? Se adesso vado su Imposta pagina, ecco, vedete, lo zoom è stato impostato automaticamente al 75% della dimensione originale, e ci sono due modi per tornare al 100%, o lo cambio qua, oppure semplicemente clicco su Adatta la dimensione di pagina, poi riclicco, vedete, adesso vado a vedere, di nuovo è tornato al 100%, se faccio l'anteprima, adesso che è al 100%, non mi vengono fuori, vedete, la pagina 2 viene spedizionata, in sostanza. Quindi posso manovrare l'anteprima di stampa di qualunque foglio, per esempio, se vado sul calendar, qui è meglio in verticale, piuttosto che in orizzontale, mi accelto, vedete, facendo l'anteprima, che vengano fuori tutti i dati, infatti sta tutto su una stessa pagina, quindi ok, posso procedere alla stampa. Ecco, quindi questo è lo scopo di questo pannello. Nell'intervallo, se avete notato, quando seleziono un intervallo, naturalmente è possibile anche azzerarlo, compaiono altre due opzioni qui, vedete, qui sotto, c'entra in orizzontale la selezione corrente, c'entra in verticale la selezione corrente. Se faccio l'anteprima mentre un intervallo è selezionato, vedete, ho al centro solamente l'intervallo che ho selezionato e posso centrarlo solo orizzontalmente oppure solo verticalmente, eccetera. Chiudo l'anteprima e torno automaticamente al pannello, tra altre cose abbiamo visto la scuola, ecco, vediamo la funzionalità trasforma. La trasforma però è da usare con attenzione perché è, diciamo, una cosa che ho aggiunto in più, non era prevista inizialmente, le copie funzionano solo naturalmente in stampa, ok. Allora, la trasforma che cosa serve? Andiamo a vedere un foglio, ho creato qui test numeri, numeri originali, ci sono praticamente due colonne che sono sviluppate in verticale, andiamo a vedere l'anteprima di stampa come verrebbe in verticale, verrebbe fuori, adesso, vabbè, non è selezionato, bisogna azzerarci, devo azzerare, perdono, azzerare l'ultimo senso di intervallo, poi facendo l'anteprima e fagliare tutto il foglio, non c'entra, vedete, mi spreca parecchie pagine in verticale, no? E mi utilizza soltanto poco spazio, perché chiaramente i dati sono sviluppati in verticale. Allora, quando siamo in queste situazioni, è possibile utilizzare la funzione trasforma. Che cosa fa la funzione trasforma? Lo vediamo passo passo, mi dice, vuoi ricopiare in orizzontale le celle di un intervallo di colonne ridondante in senso verticale? Ti faccio sì, per quello che utilizzare con attenzione, perché mi va a modificare i dati nel foglio corrente, quindi è sempre bene fare una copia di backup per utilizzare questa funzione, e io ce l'ho perché si chiama numero originale. Allora, andiamo a fare sì, selezionare uno o più colonne a partire da sinistra, in questo caso è che si attiva automaticamente il controllo referente alternativo, io vado a selezionare stavolta semplicemente le due colonne, A e B, quindi l'intervallo è AB, generico, clicco ok e parte della routine. Vedete? Il risultato quel è che ora se faccio l'anteprima, a zero la selezione, faccio l'anteprima, adesso sono tornato in verticale, andiamo in orizzontale, ecco, vedete? Tutti i dati sono stati riportati a seguire sulle colonne di destra, per cui praticamente ho una sola pagina in verticale, ma ne ho diverse in orizzontale perché chiaramente le colonne sono più di una, quindi vedete? Però occupo tutta la zona, l'area di stampa disponibile, ok? Quindi quando avete dei dati, per esempio possono essere anche dati, non so, nella prima colonna ci sono delle etichette, nella seconda dei valori, no? Quindi li troverete nella prima e la seconda, la prima tranche, nella terza e quarta la seconda, la seconda parte, eccetera, lui taglia in colonna in praticamente in orizzontale, ok? Questa è la funzione trasforma. Direi che per quanto riguarda il progetto di questo mese, ci fermiamo qui, allora per quanto riguarda il codice WBA, vediamo quali sono le parti più importanti, le abbiamo viste importando i moduli, direi che sì, non vale la pena di adentrarci, tranne che rimandiamo un altro video, per esempio alcune tecniche particolari, come al solito, insomma, ecco, ci fermiamo qui.